Nel prossimo servizio, invece, curato da Rosalba Baldino, le immagini registrate dalle telecamere nascoste posizionate dagli inquirenti. Fuori con l'auto, nell'orario di lavoro, i cartellini timbrati da una sola persona, il carrello della spesa all'uscita del supermercato nelle ore di servizio e ancora le passeggiate, le conversazioni fuori dall'ufficio, quando invece si dovrebbe essere dietro la scrivania. C'era perfino chi giocava alle slot machine. Le immagini girate dai carabinieri, 6.000 ore di filmato, non lasciano dubbi sulla disinvolta condotta degli indagati, dipendenti dell'azienda sanitaria di Rogliano, che impiegavano il tempo in attività diverse da quelle per le quali percepivano lo stipendio a fine mese. I militari hanno documentato 725 episodi di assenteismo coinvolti impiegati e dirigenti, non solo amministrativi ma anche medici, i soliti furbetti del cartellino per i quali la normalità era sbrigare faccende private nell'orario di lavoro. L'indagine è partita dopo tante e troppe segnalazioni da parte dei cittadini. Il Codacons intanto chiede che i responsabili restituiscano gli stipendi.